Presidente, questa conferenza stampa sull'area marina protetta per dare quali notizie? Per dare una notizia importante. Oggi è una giornata storica per la provincia di Crotone perché con il decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare abbiamo come provincia di Crotone ripreso la gestione dell'area marina protetta a Capo Rizzuto. E' quindi una giornata molto importante perché per 20 anni la provincia di Crotone è stata ente gestore dell'area marina protetta sin dal 1997. Nel 2017 però a seguito di quelle che sono state le vicissitudini dovute dalla legge 56-2014, legge del Rio che ha declassato le province e ha ridotto le sue competenze, la gestione è passata per due anni alla Regione Calabria. Nello scorso mese di maggio un accordo tra la provincia di Crotone e i comuni territorialmente coinvolti Isola di Capo Rizzuto, Crotone, hanno chiesto al Ministero che la gestione potesse ritornare all'ente provincia. E così il Ministero a luglio ha affidato momentaneamente la gestione alla Capitaneria di Porto chiedendo alla provincia e ai comuni una proposta dettagliata per la gestione. Proposta che è stata inoltrata nel mese di dicembre, ha avuto i pareri favorevoli della Regione dei due comuni, Crotone e Isola, della Capitaneria di Porto e il Ministro Costa il 14 gennaio con decreto proprio ci ha ridato la gestione dell'area marina. Questo significa che si può lavorare per l'area marina protetta in modo diverso? Vuol dire che si riparte una programmazione per il rilancio dell'area marina protetta diciamo legata a quella che può essere la condivisione delle scelte con i comuni coinvolti con gli accordi che verranno signati con la Capitaneria di Porto con le associazioni presenti sul territorio perché sono le politiche ambientali, le politiche del turismo, le politiche della valorizzazione e tutela delle nostre specie, della nostra porzione di costa meritano tutta la nostra massima attenzione. Comandante, la gestione dell'area marina protetta torna nelle mani della provincia ma c'è necessità anche della presenza della Capitaneria di Porto? Sì, c'è necessità di un'attività di controllo che per quanto noi vogliamo svolgere in una maniera sempre più penetrante ovviamente deve fare i conti con l'ampiezza dell'area marina protetta che è notevole, una delle più grandi d'Italia e con il personale naturalmente. Adesso abbiamo anche delle problematiche legate alla erosione costiera che ci coinvolge anche dal punto di vista ambientale perché il Ministero dell'Ambiente sul territorio ha come riferimento noi. La gestione dell'area marina protetta finalmente torna quindi alla provincia come è sempre stato e prima di questa parentesi regionale dell'interludio della Capitaneria di Porto. Mi auguro che sia una gestione proficua come lo è sempre stata e che si rilanci la gestione dopo questo periodo diciamo così sostanzialmente di stasi e di fermo di amministrativo. Le faccio riferimento ai controlli che ci vogliono e che dovranno aumentare in quest'area marina protetta? Sì, noi ce la metteremo tutta. Io ho una estrazione abbastanza operativa quindi mi piace programmare nel breve e nel medio periodo. Ho già preso contatti a suo tempo con l'amministrazione comunale di Isola Caporizzuto per aprire una base stagionale quest'anno all'interno della darsena turistica quindi per garantire una presenza più costante possibile soprattutto risparmiando sui tempi di trasferimento da Crotone delle squadre che debbono svolgere l'attività.